Sono Don Giuseppe dei Salesiani di Palermo, seguo i ragazzi del gruppo appartenente a Don Bosco e dello Svincolo. Ragazzi che insieme a noi fanno un bellissimo percorso di crescita per armonizzare il proprio senso affettivo, per poter sentirsi in fiducia, poter crescere nell'autostima. Il nostro percorso certo aiuta i ragazzi soprattutto a rientrare nelle proprie famiglie. E lì dove non è possibile noi ci impegniamo con tutto e per tutto per aiutarli a costruirsi la propria cittadinanza. Don Bosco è un grande maestro e il profumo di Don Bosco si sente nella nostra casa. E loro lo vedono come punto di riferimento di un Don Bosco che ancora oggi, attraverso i Salesiani e i collaboratori, affiduce in loro. Lì dove nessuno o altri non hanno potuto dare una risposta. Noi cerchiamo di aiutare questi ragazzi a sapersi dare risposte, a sapere accettare, a saper scommettere nel proprio futuro e di non aver paura. Il gruppo appartenente accoglie sette ragazzi. Accanto al gruppo appartenente abbiamo lo svincolo che è l'ultimo percorso per ragazzi fino a 22-23 anni che non hanno prospettive e da soli si sentirebbero smarriti. La casa di Don Bosco è una casa che accoglie, una casa che dà energia per la vita. E questi ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti. Lì dove non ci sono aiuti, risposte, imparare un mestiere, sapere essere sostenuti, a fare degli stage, a poter in qualche modo avere l'opportunità di imparare. Perché quando si cerca il lavoro, la prima cosa che dice un datore lavoro è che io ho bisogno di un ragazzo che abbia esperienza. Ma quando il ragazzo può iniziare a fare esperienza? Allora dobbiamo inventarci delle situazioni che magari ci sono di poter in qualche modo fare esperienza ai ragazzi per poter dire io so fare. Oltre a dire io credo in me stesso, oltre a dire grazie a Don Bosco.